Cioè noi viviamo una continua, permanente frattura con il passato, con il futuro e con il senso dell'eterno che dovrebbe scaturire dal sentimento religioso della nostra vita. E quindi è proprio lì che si verifica questa forma di plumbea, questa cappa come io la definisco, cioè questa negazione di ogni altro orizzonte. E quindi riuscire in qualche modo a ricollegare il presente al passato, il presente al futuro, il presente a qualcosa che trascende il presente e che quindi ha desiderio di eternità, costituisce credo la vera rivoluzione rispetto alla nostra epoca. Qui ora invece siamo nella spoliticizzazione, nella destoricizzazione più radicale. Il tempo a dialettico significa questo. Ed è un prodotto di questa peculiare torsione dell'Occidente che è l'Occidente americano nell'epoca della sua apoteosi da un lato, ma anche forse nell'epoca sua terminale. Perché c'è una grande potenza, ma anche una grande crisi di legittimazione, diciamo così. E per cui da un certo punto di vista non c'è politica oggi, insomma credo che Veneziani l'ha anche scritto, siamo al grado zero della politica. Non è mai accaduto. Infatti non sappiamo come raccapezzarci, perché da dove ricominciamo? Tant'è che ragioniamo giustamente di cose più di fondo, metapolitiche o prepolitiche, che poi spede la speranza che questo livello spirituale o culturale generi qualcosa. Ovvero viviamo in una società, in un sistema, in cui gli strumenti, i mezzi, quali sono l'economia e la tecnologia, sono diventati gli scopi stessi dell'organizzazione sociale. Sono i fini supremi che hanno in qualche modo esautorato la politica, la cultura, i grandi temi collegati alla civiltà, alla tradizione, alla religione e hanno in pratica sostituito anche nelle pratiche di vita gli orizzonti finali dell'umanità. Quindi credo che sia quello il primo elemento che emerge nella nostra società e che produce quell'alienazione radicale che caratterizza la nostra epoca. In questa chiave anche l'idea stessa di rivoluzione viene ormai applicata soltanto agli oggetti, agli strumenti. Si parla di rivoluzione solo a proposito della tecnologia o solo a proposito del cambiamento di alcuni mezzi che noi utilizziamo. Non si parla più di rivoluzione dei soggetti, non si parla più di rivoluzione come elemento che riesce a cambiare gli assetti storici e politici. Si è quindi creato una sorta di determinismo che ha una base tecnologica e utilitaristica. Quindi credo che quello sia il primo elemento forte che dall'altra parte produce una sorta di espulsione di tutti i temi che hanno caratterizzato la condizione umana da quando noi abbiamo consapevolezza. Cioè i temi collegati al senso del sacro, al senso del pensiero, al senso storico, al legame comunitario e politico. Ecco tutto questo è diventato qualche modo patrimonio di un passato ormai irripetibile, mentre il presente è giudicato soltanto attraverso la chiave dell'espansione di questi due mezzi tecnici come sono appunto l'economia e la finanza da una parte, quindi il mercato globale, e dall'altra parte la tecnica e quindi il dominio planetario della tecnologia che costituiscono i nuovi elementi di riferimento per l'umanità. Io penso che viviamo un tempo adialettico, cioè senza, drammaticamente, ma senza grandezza, è un dramma senza grandezza, senza conflitto vero, anche se siamo circondati da orrori, da conflitti estremi diciamo così, da quello che Schmitt chiamava il politico senza forma, senza mediazione alcuna, senza possibilità di messa in forma. Cioè conflitti non produttivi e quindi forse non bisognerebbe manco chiamarli conflitti, ma irruzioni di violenza immediata, emersioni di violenza immediata che non riusciamo a gestire, a governare, a superare. Cioè forse non riusciamo nemmeno a dare un senso. Io non sospetto che questa violenza immediata, che causa un grande caos globale, sia figlia di qualcosa, cioè sia figlia fondamentalmente della grande illusione globalista. Perché l'ideologia globalista, che poi è un'ideologia occidentale, dell'occidente americano, diciamo così, non è l'idea giusta per me dell'internazionalismo, di trovare forme di cooperazione, di tenere sempre conto che i problemi anche nazionali hanno poi uno sfondo, persino quelli costituzionali hanno uno sfondo internazionale. Questo è certo. No, no, è un'altra idea. È l'idea che il globalismo superi la politica, la storia in qualche modo, di per sé, e quindi renda superflue tutte quelle azioni, quelle attività, anche istituzionali, e soprattutto quelle culture che alimentano appunto la mediazione politica, la conflittualità, ma finalizzata a uno scopo, a un obiettivo, quando serve, e anche la capacità di generare decisioni legittimate, diciamo così, riconosciute. Cioè, io non ho memoria... Marcello, secondo me, io credo sarà d'accordo. Io non ho memoria di un tempo così disperante. Cioè l'Italia, ora è limitato al paese, ma al nostro paese, ha vissuto fasi tremende di violenza politica, di paura, di strategie dell'attenzione, anche di influenze straniere che hanno condizionato la nostra vita, tante cose. Però c'era sempre la sensazione di un fronte, di lotta aperto, di una possibilità di reagire. Diciamo che non fosse azzerato ogni spazio di immaginazione politica. Qui ora invece, come dire, siamo nella spoliticizzazione, nella destoricizzazione più radicale. Il tempo a dialettico significa questo. Ed è un prodotto di questa peculiare torsione dell'Occidente che è l'Occidente americano nell'epoca della sua apoteosi da un lato, ma anche forse nell'epoca sua terminale, perché c'è una grande potenza, ma anche una grande crisi di legittimazione, diciamo così. E per cui da un certo punto di vista non c'è politica oggi. Insomma, credo che Veneziani l'ha anche scritto. Siamo al grado zero della politica. Non è mai accaduto. Infatti non sappiamo come raccapezzarci, perché da dove ricominciamo? Tant'è che ragioniamo giustamente di cose più di fondo, metapolitiche o pre-politiche, che poi spede la speranza che questo livello spirituale o culturale generi qualcosa. Non so se uno guarda la diligenza america, oppure ai tedeschi, ma la Germania è ininterpretabile oggi. Stanno, sono diventati autorisionisti, vanno in giro imbarazzati, tutti sanno che hanno subito l'atto di aggressione più feroce fino alla seconda guerra mondiale, da parte degli alleati, perché non mi si venga a dire che il gasdotto è stato buttato giù da Putin, non credo, eppure devono andare in giro, erano imbarazzati con tutto il mondo che sa questa verità indicibile e gli ride dietro, e non sanno che fare, a me questo colpisce. Addirittura ora propongono regole più severe, poi ogni tanto cercano pragmaticamente aggiustamenti, però la narrazione è, dobbiamo fare i compiti a casa, dobbiamo, per esempio, sull'Europa, sulla revisione del patto di stabilità, non è che dicono, vabbè signore, facciamoci un discorso di verità. No, al limite cercano di lucrare, di garantirsi dei vantaggi loro, ma l'idea è, bisogna comunque tornare al dogma, all'ortodossia. Autolesionisticamente, cioè c'è un dato ideologico, ma è un'ideologia senza senso, perché è un'ideologia che non supporta niente, è semplicemente per darsi ancora una pseudo identità, ma senza alcuna appartenenza politica. C'è una proliferazione identitaria a cui non corrisponde niente di autentico, diciamo così, ecco, mi verrebbe da dire. No, l'assenza del conflitto è in effetti uno dei lati drammatici della nostra epoca, è come se il sottinteso fosse che noi abbiamo un'unica direzione da seguire. Di conseguenza il conflitto non esiste, non può esistere. Esiste soltanto, come dire, il bandito, il delinquente, il criminale, colui che si sottrae a quest'ordine stabilito, che è fondato soltanto sulla idea dell'assenza di un futuro diverso rispetto al presente. Quindi io credo che il conflitto venga ucciso nel momento in cui non si dà la possibilità, ecco, dialettica, ha ragione Geminello, dialettica di un confronto tra posizioni diverse, un confronto che preveda sia la confluenza che il conflitto, cioè che preveda anche la possibilità dello scontro. Ecco, nel momento in cui non c'è più questa possibilità, perché la direzione è unica, è obbligata e non ci sono altre vie se non questa da seguire, si dà praticamente scacco alla politica, cioè la politica non ha più senso, non deve progettare niente, non deve raccogliere le tensioni e le aspettative di un popolo, non deve rappresentare il senso di una comunità, né l'appartenenza, né tantomeno la prospettiva di un futuro di questa comunità. E di conseguenza, sparendo la politica, sparisce anche il nemico. Il nemico non c'è, perché il nemico è sempre colui il quale ha un percorso diverso rispetto al nostro, ma nel momento in cui io riconosco il nemico, gli do anche legittimità, cioè riconosco il fatto che lui abbia un percorso diverso rispetto a noi, antagonista rispetto a noi. Quando io cancello invece la figura del nemico, perché esiste soltanto il criminale, esiste soltanto il bandito, cioè colui che si sottrae a questa sorta di legge universale inderogabile, io ho fatto cessare insieme la politica, la rivoluzione, il futuro, la libertà anche, perché alla fine è quello, è uno scacco finale della libertà. Il rischio è che ci sia un nemico, ma un nemico assoluto, cioè oralmente squalificato. Il demonio. Eh sì. Il nemico non è uno che ha una diversa idea del futuro, è uno che ci vuole o portare in un mondo che non c'è più o portare fuori dalla legge dell'umanità e quindi in quanto essere disumano, è nemico appunto assoluto, è demonio, e va scacciato, va abolito, va soppresso, non va combattuto e quindi non va neanche in qualche modo affrontato attraverso la dialettica politica, il confronto, lo scontro. Penso che sia lo stadio peggiore diciamo così della considerazione dell'altro, perché l'altro non esiste o è uguale a me e deve essere uguale a me oppure è un mostro, non appartiene all'umanità. La gran parte dei miei colleghi, soprattutto de sinistra, tra virgolette, qualsiasi cosa voglia dire, sono all'uso, sono a 30 anni, 40 anni e mi sento parlando male della modernità, sono tutti antimoderni o postmoderni. Io non ci ho mai creduto tanto a questo, nel senso che mi è sempre sembrata una caricatura al postmoderno, cioè una cosa, una slogan, ma parlo più di tarda modernità, perché poi facciamo una fatica enorme, oramai lo riconoscono un po' tutti, a usare categorie non moderne o oltre il moderno. Cioè questa conquista di un territorio nuovo oltre la modernità che avrebbe dischiuso chissà quali prospettive, non c'è stata. Siamo sempre lì che lavoriamo, se va bene, ai bordi della modernità, con spirito critico e rigore e tiriamo fuori e facciamo un'autoriflessione costante, continua. Per cui secondo me è difficile sollevarsi dall'ascito del moderno, diciamo così, un po' come con il barone di Munchausen col codino, no? Col suo codino. Dopodiché è vero che c'è, io lo chiamo una sorta ritraviamento del moderno, poi naturalmente si può discutere, cioè per alcuni è il compimento di un destino previsto dall'origine, per me è più un effetto di una serie di vicende, di contraccolpi e almeno in Europa, in Occidente, si è creata la forma di vita in cui le persone sono state mediche, diciamocelo, hanno avuto la possibilità di curarsi, di studiare, larghe masse, cioè lo stato delle masse, poi, dopo la tragedia del Novecento si è capito che si poteva provare a creare dei regimi di massa plurali, il che non significa indifferente a un contenuto di omogeneità minimo, ce l'avevano, e allo stesso tempo in cui tutti si potevano sentire partecipi, ecco, erano in un qualche modo partecipi. Naturalmente, la svolta neoliberista ha destrutturato tutto ciò. È venuta come grande revascismo del capitale sul lavoro, è venuta anche come revascismo come scelta geopolitica e geoeconomica degli Stati Uniti, paradossalmente le politiche diciamo da Bretto Wunsch in poi avranno avuto troppo successo soprattutto in Europa, neanche il piano Marshall e gli europei stavano andando troppo bene e gli Stati Uniti rischiavano un po' di perdere negli anni 70 la loro funzione traente egemonica e hanno compiuto una scelta che era una scelta politica, cioè rottura della convertibilità del dollaro in oro e viceversa il dollaro che diventa la moneta mondiale la fine degli accordi o per la sostanziale fine degli accordi di Bretto Wunsch cioè un'accelerazione che ha riassicurato agli Stati Uniti un grande vantaggio la modernità come la vedo io ha bisogno di territori di confini dello Stato moderno con le sue differenze interne poi si sviluppano delle tradizioni costituzionali ci sono delle trasformazioni che trovano anche fanno confluire in parte queste tradizioni trovano degli elementi comuni nello Stato costituzionale del secondo novecento che è una bella costruzione però le differenze contano e soprattutto le identità le identità nazionali le appartenenze politiche cioè la modernità come in mente io è attraversata dal politico è striata non è tutta liscia per usare i termini usa Carlo Galli di solito oggi siamo arrivati a pensare che il mondo come un grande catino in cui si agita un pulviscolo si ordina da sé ma io anche sull'immigrazione non condivido affatto questa retorica dell'immigrazione per ben tutto è chiaro che tutte le persone debbono essere salvate in mare o non in mare quando sono minacciate è ovvio ma per me esiste effettivamente il diritto a non migrare cioè mi porrei il problema di di una fioritura vera dell'Africa si è dato per scontato a lungo che tanto era un continente perduto cioè allora la modernità è un insieme di cose c'ha dentro delle cose positivissime perché c'è la libertà soggettiva c'è l'affermazione della soggettività il principio della soggettività egheliana c'è appunto lo stato moderno che è una forma di universalismo concreto diciamo cioè non sconfinato e tante altre cose è una inclusione sociale che con tutte le avvertenze di Pasolini sui rischi e gli effetti controproducenti diciamo di uno sviluppo senza progresso però insomma comunque c'è stato anche un po' di progresso diciamocelo negli anni 60 no? quando si è fatta la scuola unica insomma si sono fatte delle cose con tutti i problemi però poi insomma dai il paese infatti il paese aveva un'energia dentro e una creatività culturale impressionante certamente veniva dalla guerra ma veniva anche da un senso di progetto di avanzamento da una qualità anche del dibattito culturale e della connessione tra cultura alta e cultura bassa ecco tutto questo si è perso si è perso il nome del globalismo o del postmodernismo il risultato finale è una una morta agora ecco che se noi paragoniamo la nostra epoca le epoche precedenti e se paragoniamo anche i sistemi di vita di oggi a quelli di ieri noi ci troviamo di fronte anche a dei motivi come dire di fierezza e di orgoglio del presente perché noi viviamo nell'epoca con il maggior benessere nell'epoca più longeva che abbia conosciuto la storia però al tempo stesso quello che noi avvertiamo è che stiamo quasi raggiungendo un punto di non ritorno ovvero stiamo perdendo delle condizioni che costituivano diciamo così il modo di essere di pensare degli uomini collegati al senso religioso al senso politico al senso delle radici delle identità della cultura e non stiamo sostituendo questo universo di principi di riferimenti con nulla se non con la pura espansione della potenza tecnico-economica e quindi ho l'impressione che il punto di non ritorno verso cui noi stiamo andando sia un punto di totale disumanizzazione in cui un giorno non ci accorgeremo più che non solo abbiamo smesso di pensare alla rivoluzione abbiamo smesso di pensare alla politica abbiamo smesso di collegarci alla storia abbiamo smesso di riattivare come dire le funzioni vitali che attengono l'umanità ma abbiamo proprio smesso di pensare come uomini delegando appunto a intelligenze artificiali il compito di organizzare il nostro avvenire ecco noi probabilmente stiamo scivolando in una condizione post-umana o disumana senza neanche accorgersene come una comodità un modo di vivere più agevole più tecnologicamente avanzato rispetto a cui non ha senso porsi delle domande perché significa soltanto rimpiangere il passato e quindi attestarsi supposizioni che storicamente sono ormai superate ecco io credo che questo sia un po' l'aspetto come dire drammatico della nostra epoca senza accorgersene noi stiamo arrivando a un punto di non ritorno oltre il quale avremo come dire la compiuta atrofizzazione di tutte quelle facoltà spirituali mentali di libertà dignità intelligenza che hanno costituito nel bene e nel male l'umanità e quindi mentre da un verso le condizioni materiali di esistenza sono per lo meno in occidente le migliori rispetto a quelle di ogni altra epoca passata e dall'altra parte le condizioni spirituali culturali mentali della nostra esistenza rischiano di procedere verso questa totale alienazione in cui il discorso della rivoluzione l'evocazione dell'idea di Cristo della figura di Cristo e dall'altra parte la stessa idea di un cambiamento voglio dire neanche solo rivoluzionario ma anche semplicemente di una riforma della politica oggi non sono più praticabili perché le cose si fanno indipendentemente dalle volontà dei soggetti indipendentemente dei processi storici e politici ecco credo che questo sia il punto della nostra alienazione il punto peggiore che noi stiamo toccando secondo me perché c'è un grande impoverimento un grande ottundimento culturale innanzitutto e forse anche spirituale parliamoci chiaro la modernità stessa è cristiana non c'è senza cristianesimo sia in senso antagonistico naturalmente c'è la modernità si afferma anche contro l'istituzione ecclesiastica come processo di secolarizzazione dell'acidizzazione del diritto ma anche in un rapporto quando c'è una dialettica e un conflitto c'è sempre una relazione importante e poi nello specifico c'è il cristianesimo è come dice Gauchet la religione dell'uscita dalla religione cioè la dialettica tra trascendenza e immanenza che per me costituisce il moderno come affermazione di un'epoca che si autotrascende diciamo che costruisce una trascendenza dall'interno dall'interno dell'immanenza beh questo è è totalmente un lascito cristiano dell'incarnazione e il cosceso corrisponde analogicamente peraltro al rapporto tra mito e logos originario del mondo classico pagano certamente è difficile non fare i conti con questo lascito del cristianesimo insomma come si fa però oggi passa l'idea che si è veramente radicali è un radicalismo a buon mercato un po' d'accatto se si nega tutto ciò che ha a che fare con la religione con la tradizione con il passato a parte che esiste una tradizione moderna anche la modernità è una tradizione ma poi c'è sempre un rapporto una coimplicazione insomma la straordinaria poesia di Pasolino che suona una forza del passato nella tradizione del mio nome cioè cos'era? era la poesia di un clericale passatista? non mi pare Claudio Napoleoni grande economista ma insomma anche filosofo che chiude la sua carriera e la sua vita riflettendo sui limiti di marzo andando oltre marzo confrontandosi con Heidegger e mettendo al centro proprio la questione spirituale c'è un nostro amico che io l'ho seguito come diciamo come relatore diciamo giovane economista lo cito perché sono cose rare che è Gabriele Guzzi che ha appena discusso la tesi di dottorato su Napoleoni in una facoltà di economia e gli economisti di presente erano che oramai è economia si danno dati quantitativi non hai mai la sensazione di un guizzo e non ci si pongono ormai domande meta diciamo così però Napoleoni se le poneva e siamo negli anni sessanta settanta faccio un altro esempio a cui sono incredibilmente legato la storia di Elsa Morante la storia di Useppe lo sguardo di Useppe un libro immenso che infatti suscitò una reazione un successo enorme ma suscitò una reazione infastidita a sinistra la storia rossanta scrivesse cose immonde disse che era meglio sberciare patate per guadagnare piuttosto che disperazione non aveva capito nulla e tanti altri era un libro che aveva dentro di sé una disperata domanda religiosa nella piena immanenza quella è la tragedia rimanendo sul piano di immanenza e soprattutto Useppe aveva ragione Cesare Garboli la violenza che Ida subisce la donnetta semplice però che c'è dentro qualcosa che gli viene forse dalla madre pazza impazzita è una annunciazione è quasi un'annunciazione non è una vera violenza lei infatti non la rifiuta o una visitazione Useppe è il bambinello allora vuol dire che dentro quella storia dentro quella figura del Cristo c'è l'universale l'universale per l'Occidente io poi penso che ci sia un universale che travalica persino l'Occidente perché e probabilmente può essere tradotto in altri universali di altre di altre culture che hanno la loro grande importante tradizione può essere messo a confronto diciamo così ecco forse ci sono dei meta universali non lo so non riesco a darmi una risposta fino in fondo su questo però certamente quella è una storia universale e la forza di quel libro è che è una cronaca locale che parla continuamente hai continuamente la percezione che ci sia il rinvio il rimando a qualcosa non solo di universale ma che è ciò che veramente conta per noi ecco il cristianesimo ha a che fare comunque la figura di Cristo ha a che fare con questo forse il fatto che oggi lo si rifiuti è che non si vuole non ci si vuole specchiare non si vuole avere a che fare con quello che veramente conta io credo che in effetti la tradizione possa costituire davvero un elemento importante per generare una tradizione e una rivoluzione perché la tradizione oggi è la vera trasgressione perché tutto ciò che oggi è in qualche modo controllato dal canone globale è esattamente il contrario dell'idea di tradizione è tutto ciò che si conforma al proprio tempo ma si separa da ogni tempo che precede e che segue il nostro tempo cioè noi viviamo una continua permanente frattura con il passato con il futuro e con il senso dell'eterno che dovrebbe scaturire dal sentimento religioso della nostra vita e quindi è proprio lì che si verifica questa forma di plumbea questa cappa come io la definisco cioè questa negazione di ogni altro orizzonte e quindi riuscire in qualche modo a ricollegare il presente al passato il presente al futuro il presente a qualcosa che trascende il presente che quindi ha desiderio di eternità costituisce credo la vera rivoluzione rispetto alla nostra epoca e quindi è questa la mia percezione e naturalmente poi tradizione non vuol dire culto del passato non vuol dire ripetizione stanca e meccanica di ciò che è accaduto non vuol dire tornare indietro vuol dire invece stabilire il senso della continuità e ritenere che noi siamo appunto all'interno di una catena rispetto a cui noi non siamo né l'anello terminale nell'apice e nel punto conclusivo dell'umanità siamo soltanto una parte ecco ritrovare il senso del nostro limite riaprirsi a questa idea della continuità a parte ante e a parte post quindi sia nella prospettiva futura sia nel rapporto con ciò che ci precede con ciò che dà origine alla nostra vita credo che sia l'unica possibile rivoluzione oggi e quindi è la più radicale perché rimette in discussione l'idea che l'uomo sia soltanto un soggetto creato dal caso che si autogestisce si autocrea e si autodistrugge ma sia sempre al contrario dipendente da un sistema di relazioni da un sistema di eredità di principi che rielabora naturalmente con la sua intelligenza e con la sua libertà ma che costituiscono tuttavia il segno della sua appartenenza a un mondo che lui non ha creato ma in cui lui vive all'interno del quale lui vive quindi la vera rivoluzione io credo sia proprio questa cioè uscire da questo paradigma non so se definirlo moderno ultramoderno o come dire della fine della modernità nel quale noi oggi ci troviamo un po'